Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sono un pochettino emozionato perché posso dire che per i rapporti storici di amicizia che mi legano alla famiglia Barabino mi sento un po' in casa e soprattutto perché siamo a casa di uno sponsor che da diversi anni sostiene l'attività del Dertona Basket ma soprattutto nel momento in cui siamo di fronte a domani al grande ritorno al palazzetto di Voghera e ci proponiamo per essere una delle realtà leader nel mondo sportivo di questo territorio tra Tortona e Voghera siamo sicuramente ospiti di una delle principali realtà imprenditoriali, il gruppo Ecoprogram e in questo caso Ariel Car nella vendita e nell'oleggio degli autoveicoli di questa zona e di questa realtà. Quindi posso dire che in questo caso si uniscono due eccellenze, noi ci vantiamo di essere nel mondo cestistico un'eccellenza di questo territorio, Ariel Car e il gruppo Ecoprogram lo sono sicuramente da un punto di vista imprenditoriale. Quindi io innanzitutto voglio ringraziare il Dottor Barabino che è qua di fianco a me, Matteo D'Affonchio e tutti i rappresentanti di Ariel perché tutti gli anni è anche grazie a loro che continuiamo questa nostra attività che sta portando dei grandi successi. Domani Ariel Car sarà main sponsor di questa partita che segna un po' un momento storico cioè il ritorno nel nuovo Pala Oltre Po che grazie ai lavori di ampliamento è stato portato a 1800 posti e ci dà la possibilità di ritornare a giocare sul nostro campo a casa nostra davanti ai nostri tifosi. Do una notizia, siamo molto vicini ad avere un tutto esaurito, la fase di prevendita di biglietti è stata straordinaria restano pochissimi i biglietti, invitiamo chi pensa domani di essere presente e di darsi da fare perché c'è tutto perché sia una grande serata. Poi il risultato è quello che succederà sul campo, ne parleranno Demis e Davide io non posso far altro che ringraziare ancora sentitamente a nome di tutto il Dertona Basket e mio in particolare il dottor Barabino a cui consegno questa maglia con il suo nome e numero uno ovviamente del Dertona Basket lo gatto Ariel Carr che consegno a Lito e a cui... Veramente dovrebbe essi mio figlio ma è bene però per un saluto del padrone di casa gli cedo velocissimamente la parola e passo il microfono a lui poi parliamo della partita con i nostri ospiti grazie più che altro è stata una corruzione che ci abbiamo avuto da parte del signor Picchi che oltre a portarci via i soldi con tutte le sue assicurazioni ci ha coinvolto ma comunque è stato un onore perché abbiamo fatto anche bella figura in quanto la squadra sta andando benissimo non so se per colpa di Picchi o di... o per me comunque siamo onorati di potervi sponsorizzare speriamo di poterlo fare anche per il futuro grazie ancora della vostra patria grazie mille adesso... beh ovviamente mi unisco a Marco nel ringraziare Ariel che anche io personalmente in questi tre anni ho imparato a conoscere anche perché ho guidato le macchine di Ariel nooo però grazie ad Ariel per l'ospitalità sì c'è un gran parlare di questa partita innanzitutto perché appunto torniamo aggiungo finalmente a casa nella nostra casa la casa che è stata nostra negli ultimi anni mi sento dire anche favolosi in termini di risultato ovviamente lo facciamo in una partita delicata in una partita dove affrontiamo una squadra che non che ha una posizione di classifica che non rispecchia ovviamente il rostro è stravolto un'altra volta ultimamente proprio perché è Scafati vuol centrare una salvezza e quindi una partita delicata una partita ovviamente che teniamo a fare far bene per le motivazioni anche di cui parlavamo prima di Voghera ma soprattutto per continuare il nostro cammino dopo la partita di Biella di cui si è tanto parlato ma personalmente e anche per i ragazzi è già dimenticata guardiamo sempre avanti e niente quindi sono molto curioso di giocare la prima a Voghera perché di prima si tratta ma anche sono altrettanto sicuro che la squadra sia pronta per giocare questa sfida come ho detto per noi molto importante intanto passo a Davide poi se ci sono delle domande buongiorno grazie Marco grazie a tutti di essere qui e che dire mi aggancio a quello che ha detto il coach e siamo veramente felici di tornare a Voghera a casa con i nostri tifosi anche perché fino adesso è stato difficile difficile perché se si può dire trasferta a Casale da settembre da ottobre quando è iniziato il campionato fino adesso è stato abbastanza tosta però ringraziamo anche i tifosi che sono venuti numerosi anche vedendo un po' le distanze speriamo di avere un gran numero domani e niente vediamo di fare una grande partita e di stupire i nostri tifosi per questa prima in casa se ci sono delle domande per Dermis Scaffatti ha avuto un periodo un po' altalenante adesso sembra un attimino in ripresa un inquadramento un attimino dei prossimi avversari al di là del ritorno a casa che comunque è lodevole per la società come si presentano gli avversari come arrivano rispetto anche a quelli che abbiamo conosciuto magari da recente passare beh allora innanzitutto è una squadra un po' stravolta rispetto all'andata tanti giocatori nuovi soprattutto tanti praticamente gli stranieri nuovi hanno aggiunto anche un passaportato Dobbins di cui conosciamo bene le geste perché le abbiamo già visto gli anni scorsi in questo campionato è una squadra che mantiene grande atletismo grande stazza basta pensare che ha quattro lunghi intercambiabili che potrebbero giocare titolari nelle altre squadre grande pericolosità offensiva nel perimetro Jackson viene da Caserta lo stesso Metreveli che è un lungo ma comunque viene dalla massima serie quindi è una squadra molto completa ovviamente per mille motivi come ho detto prima non occupa una posizione di classifica adeguata alla squadra che attualmente sta giocando per loro chiaramente la cosa che possiamo sfruttare noi è il fatto di avere ovviamente il fattore casalingo ma nelle nostre armi la velocità ed è penso che sia quella l'arma in più domani contro una squadra come ho detto che ha centimetri a peso e a qualità e a talento mi sono dimenticato anche di citare l'amico coach Giovanni Perdichizi che è molto esperto di questo campionato e anche vincente quindi è chiaro non vanno in campo i punti in classifica questo l'ho detto anche con i ragazzi ma vanno in campo le qualità e va in campo soprattutto il gioco e domani dobbiamo essere pronti a questo ok prego sono Claudio Barbieri da Giovanni Bocchiera appunto sono interessato dal punto di vista locale quanto incide percentualmente secondo te il fattore campo di tornare a Bocchiera non tanto mentalmente ma tu hai giocato comunque già a palotto un po' esaurito molto caldo fu molto caldo adesso addirittura abbiamo addobbiato la capienza sono calcoli non proprio matematici questi nel senso certamente siamo una squadra che è stata nomade lo metto tra virgolette nel senso che anche gli allenamenti non sono stati mai fatti nello stesso campo giriamo comunque abbiamo girato tanti campi di questa stagione apro una parentesi anche grazie all'organizzazione dello staff della società e anche la disponibilità dei ragazzi questo non è stato mai un grande peso per noi giocare a Bocchiera è importante soprattutto per l'ambiente e lo dico molto sinceramente probabilmente per i giocatori o per noi in termini pratici canestri chiaro un campo un po' particolare ma cambia relativamente perché comunque abbiamo un'abitudine a giocare in un campo e ci andiamo in quello cambia molto per chi ci segue e di conseguenza l'affetto che sentiamo è certamente maggiore ecco in un contesto dove è più piccolo rispetto a Casale e dove gli anni scorsi si è costruito un vero fortino in termini pratici poco cambia onestamente invece in termini di presenza in termini certamente di entusiasmo tanto e spero sia la nostra arma in più per questo finale di campionato ok grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti